34 anni di storia tra coppe, medaglie e poi anche una lunga carriera sportiva, quella dei guantoni, il pugilato, la box. Francudella, volto storico a San Michele dal 1983, qual è l'aria che tira oggi nel Rione? Il Rione è abbastanza tranquillo e calmo, certamente ultimamente stanno venendo a vendere dei venditori qua intorno che sono appunto queste persone che stanno riempiendo il posto di questo mercatino, e ce ne sono troppi, tra cui stanno anche un po' invadendo i marciapiedi e anche davanti alla banca, davanti al supermercato. Io penso che queste cose non stiano molto bene qua in zona, però si vede tanta gente la mattina. 34 anni, un focus su San Michele, il Rione visto attraverso i suoi occhi, come è cambiato, se è cambiato, quali problemi ci sono? I problemi ci sono pochi, perché è un Rione abbastanza oggi tranquillo, a confronto di tanti anni fa, quando diciamo che io questo Rione lo conosco da quando ero ragazzino, tra cui io ero pasticcere, portavo le paste niente meno in bicicletta e poi in macchina eccetera, allora erano tempi peggiori perché dovevi stare attento anche alla cassetta delle paste che te le rubavano da dietro, diciamo. Oggi sono cambiati i tempi, anche le persone sono cambiate perché si abita un sacco di gente che appunto è diventata amiche, siamo diventati tutti vicini di casa più che altro. San Michele è comunque una periferia, signor Udella, proprio per questo motivo, lei da commerciante e anche da sportivo si sente di lanciare una proposta alle istituzioni, un'idea, un consiglio per rivitalizzare ancora di più questo Rione? Ma guarda, il Rione è abbastanza sviluppato, come diciamo, nel senso che gente ce n'è, diventa un pochino la domenica che è un pochino solitario, però diciamo che non stiamo male in questa maniera. Io penso a 30 anni fa quando già ci venivo, 40 anni fa ci venivo, niente meno come ripeto, mi portavo le paste ai vari bar che c'erano qua ed erano abbastanza tranquillissimi, oggi invece è abbastanza piena di persone che si danno l'appuntamento al bar. Io per esempio ogni giorno nel mio negozio siamo in con 5-6 persone che andiamo a prendersi il caffè alle 10 e mezza. Perciò è abbastanza, diciamo, riempita la giornata via. Torniamo un attimino ancora indietro al passato. Lei appunto da ragazzo veniva, portava le paste e si doveva comunque guardare le spalle. Sì, allora si dovevi guardare le spalle, anche perché c'era qualcuno nascosto che te la rubava dalla cassetta, però bastava una scazzottata, una, diciamo, che poi diventavi amico. Quindi possiamo dire che con una scazzottata nel passato si diventavano amici. Sì, allora sì, oggi invece è più difficile. Per esempio a me, quando sei mesi fa c'era un ragazzo qua che ha fatto fare le sue cose al cagnolino, gli ho detto, beh raccogliere, e questo ti risponde, chi cacchio voi, una cosa di dire. Infatti non avevamo, stavamo per bisticciare, meno male che c'erano gli amici che ci hanno separato. Però le cose più stupide oggi sono quelli che hanno appunto i cagnolini, che fanno le sporcizie in mezzo qui alla strada e non le raccoglono, perché è giusto, io c'ho un cagnolino ma quando fa le sue cose le raccolgo. Cioè questa è la cosa più semplice oggi. In un'ultimissima battuta, lei comunque è un nome conosciuto anche appunto per lo sport, per il pugilato, per la box, quindi diciamo che incute anche un po' di timore. Ma io sono talmente piccolo che non timo nessuno. Io ho sfruttato gente più grande a tempi addietro, non oggi però. Oggi è tutta più semplice la strada, non basta che uno si sappia comportare oggi, è tutto più semplice. Però ricordiamo nel passato cosa capitava? Scazzotate poi amici. È passato, tu pensa che io abitavo a Sant'Elia, scazzotate ne avevamo quasi tutti i giorni. Però poi si diventavano amici. Oggi invece ti devi aspettare cosa vuoi, racconta l'altro, la testata in faccia, queste cose non si possono più fare oggi, ecco.